Grazie a tutti. Facile, facile. Le sue sigarette sono light. Ne vuole una? Le dispiacerebbe spiegarmi che cosa stiamo facendo? Sono un naso. Sa cosa significa? Naso? Sì, lo so cosa significa. La cameriera indossaciador. Scusi, ma lei conosce a memoria la ricetta di tutti i profumi? L'ho creato io. Mi aiuti a cambiare le lenzuola? Madame Valberg, non sono qui per cambiarle le lenzuola. Ma non mi aiuta a portare su le valigie? Non deve fumare. Mi porti le mie cose, ma almeno dire un grazie. Buona serata. Che cosa le ricorda? Non lo so. Abbia un po' di fiducia in sé. La cameriera portò il blu. Un piccolo tocco di agrumi di bassa qualità. Una noance pepata. Mediocre. Mia moglie è portato il blu. Un piccolo tocco di agrumi di bassa qualità lo scendio. Grazie a tutti